Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Siamo a scuola, prima della verità del corso di recupero di grammatica Adesso vi faccio vedere Brunotti Poi abbiamo la mia amica che non serve a niente e non fa niente Poi abbiamo mio fratello Alex Aspettate un attimo, faccio salutare una cosa Oh, sto registrato Aspetta Aspetta Vai Yuri Cos'ha da commentare in questo video? Dammi il mio Ce ne ne ho più Niente Nicolás, cosa commenti in questo video per lo speciale 40 iscritti? Sì, andiamo Bravo I fogliettini Bravo Tante pelle, tante Bravo Sono fondamentali i fogliettini Vai Andiamo a zaino Oh bimbo, attento a buca Perché è broia Già sono morto Ma non siete bene perché sto sotto al suo Ma che cazzo vuoi? C'è uno che mi urla Eh, che cosa? No, non è Alessandrescu Ma che ti pare che c'è sta? No, guardate Gabriele ha fatto solo Vabbè, non iscrivete al suo canale Gabriele Oh bimbo, non iscrivete al suo canale Leonardo Che puttana Oh Gabriele Oh Vai È vero che non la gente si deve disiscrivere al tuo canale? No Salve Lasciate like E dislike per lui Ma tu, ma tu capito che guardi te lì o devi guarda lì? Boh Vabbè Vai Lorenzo Lorenzo Faccia questa flippa vai Facciamo godere Il momento fantastico Che scherzo Ah ma la figlia Ah ma la figlia Ah ma la figlia Ah certo Ok Bravo A me è mancato Falo vedere proprio Vai Bravo Bravo Cosa gli dice che adesso devo chiudere il video? Guarda tutti iscrivete Arca Tu frate Il tuo vero padre Eccolo Lei è il tuo vero padre Magari Brunotti No 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 Poi Nel mercato Guarda nel mercato Non gli fa più prendere le gemme Penso quanto scioppa E ci sono sette leggendari Ma non ho mai soppato Ma non ho mai soppato Ma anche io E sta ancora in arena Aspetta Oh posso inquadrare Posso inquadrare questo momento leggendario Metti tutto il deck Con tutto leggendario Ma fa il deck Dove sono leggendari Quanto te ne manca? Te ne manca una? Eh Quattro Quattro Grazie Mi ho mai ancora Trunco Ma io ce l'ho due Ma no perché ti fa più scioppa Non ho mai scioppato Non mi ha mai fatto Ci mancano gli stessi leggendari Perché ti ho mai fatto scioppa Non lo so Ce ne mancano gli stessi leggendari Perché ti ho proprio te Sì Perché ci ho fatto così tanto Non ho mai soppato 180 messaggi del chat Madonna Non è anch'io Perché io È da stamattina che non lo vedo Vabbè raga Qui è concluso Perché dopo Non è anch'io clash Cioè Iscrivetevi E al prossimo vlog Se ci sarà ancora Ciao